Fai bene a chiedere scusa, fai bene, ma ora andiamo tutti con l'iscio. Lentini! Il portiere del Pisa, Simoni! L'arbitro Longhi! È un ginnasta, eh? Fa il ponte. Tassotti! Nobile! E Monza! Due geni del calcio. Alemão! Chiara Rizzardi, però niente. Nappi è la sua foca monaca. Scuravi! Bel controllo. Riccardino Rijkaard! Bravo, bel triangolo. Venturin! Calcaterra! I parastinchi di Schichiechi! L'arbitro Beskin! Faccenda! L'allenatore per l'Angolo Fair Play, l'allenatore della Sampdoria Mancini, festeggia... Ma è Bosco l'allenatore della Sampdoria. Ah vabbè, adesso è Bosco, va allora. Non è Bosco? Ma per piacere. Un' vur estrena.